Bene, allora, penultimo talk di N Summercam 2023. Siamo tra i talk tecnici fra gli ultimi due. Abbiamo con noi Sonia, che appartiene a due gruppi, sostanzialmente. Uno è il MeetLab, che abbiamo già conosciuto e visto oggi in altre salse e altri progetti. E l'altro è Luc Trieste, che è un Linux User Group storico, credo creato una ventina di anni fa, più o meno, e che comunque è ancora attivo e che quindi fa parte della rete dei Linux User Group italiani, dei quali abbiamo comunque parlato nel corso di questo ESC. Vedete poi nelle prime slide una grafica un po' particolare, quindi poi vi pregusta, questo vi pregusta anche un po' lo stile di questo talk. Comunque parleremo di security e di vulnerabilità. Chiedo comunque a Sonia di presentarsi, come normalmente accade, e un grande applauso per lei e a te la parola. Allora, io sono una programmatrice freelance, quindi come ha detto Seba, faccio parte di MeetLab e di Lug, mi interessa un po' di cyber security, anche se diciamo a livello un po' amatoriale. E in questo talk volevo un po' raccontarvi di come ho scoperto una vulnerabilità all'interno di un software e credo poteva essere di interesse un po' per il tipo di vulnerabilità, che non è diciamo il classico SQL injection o cross-site scripting, che magari la gente anche stufa di vederlo, e anche un po' per le questioni che sono sorte in fase di disclosure, di cui parlerò insomma alla fine. Allora, specifico che questa vulnerabilità è stata patchata in una release che è uscita due mesi fa, però la disclosure ufficiale non è ancora avvenuta per dei motivi che spiegherò alla fine, e quindi ho in qualche modo anonimizzato in ogni caso questo talk, per cui non dirò il nome dell'applicazione coinvolta, e i payload che vedrete non sono i payload utilizzabili su cose veramente in produzione, ma sono una versione semplificata, e quindi per riuscire a riprodurre i payload funzionanti per attaccare dei sistemi magari che sono veri in produzione, dovreste comunque lavorarci su diverse ore di analisi dopo aver indovinato di che applicazione sto parlando. Quindi allora, la nostra storia dell'orrore, come molte altre storie dell'orrore, inizia da un'applicazione PHP, è praticamente un CMS, non tra i CMS quelli super utilizzati tipo WordPress o Drupal, comunque è abbastanza utilizzato, ho visto delle statistiche, dovremmo avere intorno ai 100.000 siti al mondo che lo utilizzano, e la maggior parte dei quali concentrati nel paese d'origine del team di sviluppo di questo CMS. Diciamo, la prima cosa che faccio quando cerco una vulnerabilità è andare ad analizzare le parti del codice che sono accessibili da utente anonimo, perché ovviamente sono quelle più gustose, quelle in cui riesci a penetrare il sistema senza avere alcun tipo di privilegio. E in questo CMS, diciamo, aveva tirato la mia attenzione un blocco di codice abbastanza intricato, contorto, che veniva fatto prima del check del login, e quindi in parte completamente gestita da utente anonimo. E diciamo, semplificando il più possibile questo codice, potremmo dire che faceva una cosa del genere. Allora, in verde, ho messo le parti di chiamate al framework utilizzato da questo CMS. Allora, come prima riga viene preso il body della request HTTP, una richiesta in post, che arriva al CMS, e viene ricavato un oggetto fields. Poi viene istanziato un oggetto di tipo component, quindi una classe component, è in questo caso una delle classi base di questo framework. E poi viene fatta una cosa abbastanza strana, che è questo ciclo, per cui di fatto si fa loop su tutti i field che arrivano in input dalla chiamata HTTP, e poi si utilizza una scrittura che ho indicato con quel dollaro scritto in rosso. È una cosa un po' strana di PHP, quindi la cito adesso, magari non tutti la conoscono. prende il fantastico nome di variabili variabili, è un modo di PHP di definire variabili, ma in questo caso anche field, quindi campi di un oggetto, completamente dinamici. Quindi in questo caso cosa stiamo facendo? Stiamo andando a costruire, ad assegnare nuovi campi custom all'oggetto, il cui valore, il nome del campo, corrisponderà al valore della variabile. Quindi di fatto stiamo riversando tutti i campi dell'oggetto fields dentro l'oggetto component. Ora ovviamente questo oggetto, cioè questo pezzo di codice, non fa alcun tipo di validazione dell'input. E uno magari a prima vista potrebbe non vederci niente di male, perché effettivamente è un banale assegnamento. In realtà questa cosa, io come l'ho vista già un po' metteva i brividi, motivo per cui ho fatto diciamo a tema horror la presentazione, perché appunto ho detto ma è un po' strano che tu puoi assegnare dei campi arbitrari a un oggetto. E quindi come prima cosa sono andata a cercare tutti i punti nel codice in cui questi campi venivano utilizzati. E non ho trovato nulla. Però non mi sono scoraggiata, ho detto no, deve esserci ancora qualcosa che mi sfugge, che si può fare, e quindi ho detto andiamo a scavare dentro il codice del framework. Quindi sono andata dentro il codice della classe component. E dentro la classe component ho visto che veniva fatto largo uso dei cosiddetti magic methods. Questa immagine qui è stata generata ieri con stable diffusion, era giusto carina. I magic methods sono un'altra feature di PHP e di fatto sono dei metodi particolari che vengono utilizzati per settare dei comportamenti di default sugli oggetti. e in questo contesto ci interesserà in particolare il metodo underscore underscore set che è il metodo che viene invocato quando tu tenti di assegnare qualcosa a un oggetto e quella proprietà non esiste oppure è privata. Quindi se tu tenti di assegnare una proprietà privata o inesistente a un oggetto magicamente viene chiamato questo metodo set. Cosa faceva il metodo set della classe component del framework? C'era all'interno un if per cui se la chiave aveva un valore particolare che per l'anonimizzazione detta prima ho chiamato magic people andava a istanziare usando un altro metodo del framework che è questo framework new instance un valore, un oggetto, quindi creava una classe al volo usando internamente la reflection class di PHP sulla base del parametro dollaro value passato in input. Qui lui lo fa nell'ottica di ottenere un oggetto di tipo pippo perché in questo contesto particolare lui si aspetta che il chiamante gli passi un oggetto di tipo pippo e l'oggetto dollaro value ha un valore tipo quel json che vedete lì quindi lui si aspetterebbe il nome della classe pippo o qualcosa che stende pippo poi si aspetta un parametro che sono i parametri del costruttore della classe e tutto quello che segue sono i fields che lui va ad assegnare all'oggetto in fase di costruzione. Però lui non fa alcun tipo di validazione su quello che gli arriva e la classe chiamante nemmeno. Quindi di fatto io in questa situazione posso passare un payload in json nella chiamata post HTTP e istanziare classi a caso passare anche il costruttore e i campi. Quindi questo è giusto per riassumere possiamo invocare il costruttore passare tutti i parametri che vogliamo al costruttore poi possiamo anche usare i set di tutti i field sull'oggetto e conseguenza indiretta è che viene invocato anche il distruttore se si può definire in PHP un distruttore quindi una funzione che viene invocata al destroy della classe. Però uno magari si chiede come fa appunto arrivato a questo punto mi sono chiesta bellissimo però cosa posso fare di interessante possiamo danneggiare il sistema in qualche modo arrivati a questo punto? Sì, allora quello che si fa è andare alla ricerca dei cosiddetti gadget è un nome che ho trovato cercando online appunto questa tematica è un nome che ho visto viene dato alle classi diciamo interessanti che possono essere sfruttate in questo tipo di situazioni alcune stringhe diciamo che potete cercare online per darvi un elenco di queste classi sono quelle stringhe che vedete lì sopra ho messo anche PHP Object Injection che in realtà è una vulnerabilità un po' diversa però c'è un certo overlap tra le due quindi vi dà dei risultati simili e cosa interessante l'ho chiesto anche a ChatGPT però in maniera un po' vaga perché di solito se tu gli chiedi qualcosa di security lui ti dice no ma questa cosa è illegale non tenta di oscurarti diciamo l'output in qualche modo e quindi gli ho chiesto in maniera molto indiretta ma sai dirmi se c'è qualche classi PHP che per caso fa cose strane, cose interessanti all'interno di costruttori e distruttori e effettivamente mi dà fuori tre o quattro delle classi che servono quindi è interessante anche quell'approccio lì allora una classe molto interessante è una classe della libreria Gasol HTTP che è una libreria molto comune se avete un'applicazione PHP con molte dipendenze è probabile che sia una dipendenza delle vostre dipendenze perché è il classico client HTTP che tutti includono e questa Gasol HTTP ha una classe FnStream che ha un distruttore molto particolare in pratica nel distruttore lui verifica se è settata una funzione FnClose se quella funzione è settata la invoca quindi in questo caso benissimo noi possiamo passare quel payload che vedete lì sotto quindi magic people è la nostra keyword magica e selezioniamo questa classe FnStream il costruttore non ci interessa e come funzione di chiusura mettiamo phpinfo phpinfo è la classica funzione php che serve per fare debugging e stampare tutti i parametri del server variabili d'ambiente e altre cose interessanti quindi cosa succede? passiamo questo payload lo script PHP viene eseguito va in errore perché lui si aspetterebbe poi un'istanza della classe Pippo ma questo non ci interessa perché ormai questo codice è già stato eseguito per cui c'è questo assegnamento la classe PHP viene distrutta viene invocato il distruttore va a finirli dentro e magicamente stampa phpinfo prima o dopo l'errore in base a come funziona l'applicativo cosa interessante dal CMS che appunto stavo analizzando questa cosa stampava nelle variabili d'errore le credenziali di accesso al DB come erano nelle variabili d'ambiente per cui una volta che abbiamo le credenziali e appunto stringa di connessione al DB username e password direttamente nelle variabili d'ambiente cosa possiamo fare dopo? sfruttiamo la classe PDO che con MySQL ha uno splendido parametro solo con MySQL quindi con PHP con Postgres non funziona però con MySQL ha uno splendido parametro che è questo init command che ti permette direttamente nel costruttore di passargli una stringa SQL arbitraria che lui eseguirà per cui qua possiamo decidere se fare qualcosa di distruttivo come appunto droppare tabelle a caso o magari qualcosa di un po' più silente tipo appunto aggiornare la password dell'admin visto che è open source abbiamo tutta la struttura del DB anche semplice e quindi appunto andare a poi entrare nel sistema e fare quello che vogliamo ovviamente questi sono tutti attacchi blind quindi dà un errore e non restituisce praticamente niente però appunto tutte le insert o i drop sono comunque interessanti terza classe carina è SPL file object SPL sta per standard PHP library che è una classe che permette di accedere ai file però è interessante perché apre anche URL quindi per cosa potrebbe essere usata in questo contesto per bypassare eventualmente un firewall e accedere a sistemi più interni quindi che da fuori non sarebbero accessibili ma siccome questo codice viene eseguito dall'interno della macchina ci dà accesso ad altre porte e quindi propagare il nostro attacco su sistemi interni ovviamente ci sono anche altre classi più particolari però magari non sempre la dipendenza l'applicazione a queste classi come dipendenza tenete conto ho visto degli esempi in cui si può arrivare anche al remote code execution completo quindi eseguire parametri eseguire comandi di sistema direttamente passando cose di questo tipo e vabbè non sto ad elencarvi insomma tutte le classi fate un po' di ricerche se mi interessa il tema e allora qua in fase di disclosure per me è stato un grande dilemma che cavolo fare perché allora è vero che l'applicazione non fa alcun tipo di validazione dell'input quindi sicuramente è un problema a livello applicativo però anche il framework non è che si stia comportando proprio benissimo cioè potrebbe fare un check prima di quella chiamata e verificare se mi stai passando una classe che prima di stanziarla sarà un'istanza di pippo o qualcosa che estende pippo e la riga vulnerabile è dentro è dentro il framework alla fine la riga in cui parte l'attacco è dentro il framework per cui per me la cosa più sensata è stato contattare come prima cosa quelli del framework e fargli questo proof of concept semplificato così e quindi l'ho contattati tramite HunterDev che è una piattaforma che fa backbounty di progetti open source solo quelli ostati su GitHub per qualche motivo e lì diciamo mi hanno un po' ignorata all'inizio quindi dopo che ho aperto appunto la segnalazione su HunterDev ho iniziato a cercare un po' di informazioni in più su questo framework su chi era il team di sviluppo e così via e ho scoperto con un momento un attimo di panico che il team di sviluppo di questo framework era un team composto da persone di un paese che in questo momento storico è più o meno in guerra con un paese d'origine del del CMS e quindi ho detto ma sentiamo un attimino anche quelli del CMS che forse non si sa mai perché praticamente l'aveva appena detto come tirar giù migliaia di siti da anonimo agli altri insomma e quindi li ho contattati e quelli di CMS sono stati invece estremamente reattivi e hanno fixato veramente in 24 ore era tutto fixato e mi hanno dato anche un bounty quindi un premio in denaro diciamo per ringraziarmi dopo di che però diciamo di comune accordo loro hanno fatto la release molto presto e hanno messo una piccola nota tipo fix da RCE nel nel changelog però non è stato ufficializzato nulla perché aspettavamo un feedback da quelli del framework e il dubbio era ma se altre persone fanno delle robe del genere magari ci sono altre applicazioni in giro vulnerabili per colpa del framework in realtà quelli del framework dopo appunto due mesi hanno risposto che dal loro punto di vista si potrebbero implementare un check su appunto la classe però dal loro punto di vista questo dà un falso senso di sicurezza perché non c'è modo di accertarsi di essere sicuri al 100% che non sia possibile iniettare codice malevolo anche sfruttando un'istanza di pippo io non concordo con questa cosa vorrei sapere da voi cosa ne pensate perché comunque quell'IF avrebbe diminuito la superficie d'attacco del 99% dal mio punto di vista però loro hanno detto che non hanno intenzione di fixare questa cosa e quindi l'unica cosa su che abbiamo concordato è scrivere una piccola nota che nessuno leggerà sulle security best practice del framework stesso e quindi questa è stata diciamo la conclusione di tutto per cui per concludere se programmate fate attenzione non sottovalutate un setter che appunto dentro un setter può nascondersi tanta roba anche soprattutto se andate a estendere a utilizzare classi che non conoscete e se invece state cercando vulnerabilità non abbiate paura di scavare fino dentro il framework perché magari scoprite qualcosa di estremamente interessante come è in questo caso bene vi ringrazio grazie Sonia qualcuno sì cortesemente insomma fate i bravi non tentate di sfruttare queste informazioni tanto da stanotte sarà su youtube quindi tranquilla nessun problema detto questo ci sono domande su questo talk una domanda Pietro si sa se è sfruttato in the wild spero di no io non l'ho sfruttato personalmente perché così forse a mio giudizio ma l'ultimo caso in cui ho sentito dire che aggiungere un controllo aggiunge da un falso senso di sicurezza è stato quando ho letto del sommergibile Titan che non aveva la certificazione perché tanto la maggior parte delle esplosioni delle implosioni sono causate dal errore umano quindi sì che sia lì apposta non saprei dirti sinceramente non saprei giusto per sapere qualcuno di voi ha un'opinione a riguardo sul appunto voi dareste la colpa anche al framework o solo all'applicazione in questo caso sì oltre a PHP che insomma penso allora secondo me secondo me c'è del dolo secondo me c'è del dolo perché avere in produzione praticamente un evaluate di codice arbitrario non è che c'è bisogno di leggere le best practice per capire che è estremamente pericoloso per cui io ci vedo del dolo e mi occupo di quality assura mi occupo di controllo qualità per cui se i miei lo fanno cambia il lavoro molto presto lato framework intendi per come la vedo io la colpa sta nel framework cioè dove sta il codice vulnerabile quello è il componente vulnerabile da che mondo in mondo vengono citate le vulnerabilità anzi la domanda che volevo fare è visto che hai avuto dei problemi di comunicazione con il vendor perché non siete andati secchi col CVE col Mitra in realtà aspettavamo il feedback da parte di quelli del framework che è arrivato praticamente una settimana e mezza fa e adesso c'è un security advisory in draft e doveva essere pubblicato questa settimana probabilmente uscirà lunedì martedì insomma una roba del genere poi verrà assegnato il CVE quindi aspettavamo solo il feedback da parte di quelli del framework che non arrivava mai perché evidentemente erano disinteressati a questo tipo di segnalazione sì c'è anche la procedura il Mitra per questi casi in cui tu reporti una cosa e il vendor non ti caga per un anno di fatto ha una procedura dove tu stesso bug hunter puoi aprire il CVE e a quel punto anche il vendor quando vede che c'è il CVE aperto un pochettino inizio ok sì sinceramente non è che ho grandissima esperienza in questo ambito quindi non si apre grazie appunto della proposta del suggerimento io ho un'altra domanda hai per caso guardato quando è stata introdotta questa feature nel framework ah da o meno sempre tipo qualche anno suppongo altre domande nessuna allora ringraziamo Sonia per aver condiviso la tua esperienza conoscenza e il summer camp